Siamo nell'area parcheggio di via Circonvallazioni, ex isola ecologica, proprio alle spalle della scuola Nazario Sauro. Come potete vedere la zona, nonostante non sia più un'isola ecologica, è utilizzata comunque come una discarica abusiva. Anche qui ai miei piedi ci sono rifiuti di ogni tipo, cumuli di sacchetti buttati in maniera illegale, ma soprattutto ingombranti e pezzi di mobilio come materassi o scarti di legno. Quello che però sconvolge maggiormente è l'utilizzo della zona. Fra l'erba alta abbiamo trovato numerose siringhe, numerose scatole di farmaci, alcuni preservativi utilizzati, fazzoletti e quant'altro. Evidente che quindi l'intera area venga usata per qualunque scopo illecito o comunque poco consono a quello che è un parcheggio aperto al pubblico. È evidente, anche se ora siamo in piena mattinata, che l'area non sia assolutamente illuminata. Mancano infatti lampioni o qualunque tipo di fonte di luce, mancano telecamere di sorveglianza e generalmente sono assenti i controlli. A prescindere anche dei comportamenti dei cittadini è evidente che l'area sia sotto incuria. Le erbe alte, l'asfalto dissestato, tutti segni di un'amministrazione che sembra aver completamente dimenticato la zona. Eppure parliamo di un'area che è di fronte a una scuola, scuola frequentata anche ora con l'area apertura dai bambini. Una zona che comunque è frequentata dalla cittadinanza di Torre del Greco. Ricordiamo che ogni venerdì mattina qui a fianco si svolge il mercato e l'intera area di bita parcheggio per tutte le persone che vengono a fare acquisti. Anche qui potete osservare che le piante e le erbacce stanno crescendo al di sopra i cumuli di immondizia inglobandoli completamente. Fra i tanti sacchetti trovati molti contengono scarti evidenti di uffici, ad esempio bicchierini del caffè monouso o scarti di fotocopiatrice. È evidente quindi che siano anche gli uffici presenti in zona a utilizzare questo posto come discarica. In questa zona possiamo notare tantissimi scarti di costruzione come sacchi pieni di muratura o di mattonelle. Fra i rinvenimenti più particolari però c'è una sacca piena e sigillata contenente del plasma a uso medico. L'associazione Università Verde ha presentato un progetto per riabilitare l'intera zona. Un parco verde che possa diventare un simbolo di bellezza e pulizia ed un polmone naturale per i giovani alunni dei plessi scolastici vicini. Tuttavia, a quanto pare, l'amministrazione sta già pensando di rendere l'area un punto di raccolta per rifiuti ingombranti ed un'area cani, confermando quindi la destinazione a discarica e condannandola al degrado. Grazie.